Cosa ne pensi? E come pensi il tuo proseguimento e il proseguimento della tua squadra? No, sono scarsa. Come bo? Dai, su, vedi qualcosa ai tuoi compagni. Si vincere addirittura a vincere? Ne sei sicuro al 100%? E dei tuoi compagni che cosa pensi? Che sono bravi. Sono bravi, sono bravi. Ti vuoi bene? Si. Qualcosa? Di qualcosa? Vuoi dire quello che vuoi? Siamo qui. Ma sai che cosa pensate del vostro proseguimento? È troppo forte! Pensavate, prima della partita pensavate di vincere? Si, si. Si, assolutamente. E invece lei è un attore. Sono un attore. Ma lei invece che cosa pensi della squadra e che cosa pensi del vostro? Vai, vogliamo il vice. La squadra ha sperato di avere un sacco di punti di forza e possiamo sicuramente rimanere in alto. Assolutamente. Grazie viste! Quali sono gli avversari? C'è anche il vice che vuole parlare. Il vice, il vice, il vice capito? Vuoi pensare, come sono stati secondo me lo stesso? Bravi o...? Bravi, ma noi siamo bravi! E non bruciare il culo! Ehi, 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 ehi!